ciao a tutti e benvenuti su glamissima il primo canale italiano di recensioni per quanto riguarda calze colante ed altri prodotti femminili io sono sara e oggi nello specifico vi voglio parlare di questo collant che ho ricevuto tramite amazon naturalmente sotto nel box info troverete il link al al prodotto e potrete procedere all'acquisto qualora il prodotto sia di vostro gradimento allora si tratta di un paio di collant della marca fiore golden linea fiore appunto 20 20 denari con questa stampa floreale il collante si presenta imbustato molto bene una bella confezione di cartone bella vera infinita devo dire che mi è arrivato perfettamente integro né schiacciato ne ammaccato da nessuna da nessuna poste al suo interno appunto è in un ulteriore busta che consente al collante di non rovinarsi e il collante si presenta così si tratta di un collante appunto 20 denari con vedete con questa fantasia floreale adesso io cosa farò non farò altro che indossarlo per voi e dirvi la mia opinione ecco qua come ho deciso di indossare questo collante per voi ho indossato un abitino in lana color grigio con un filo di lurex poi ho indossato appunto questo magnifico collante che arriva dove l'abitino appunto lascia giusto intravedere la parte la parte del collante per poi dare spazio alla parte fiorata naturalmente non potevano mancare un bel paio di décolleté assolutissimamente no e queste sono quelle che appunto ho scelto ho scelto io da indossare con questo con questo collante devo dire che l'effetto è davvero davvero super super devo dire super sexy e non me lo aspettavo neanche io perché fa davvero una super figura avete parte della gamba coperta e abbinandolo con un abitino di questa di questa misura lasciate intravedere il giusto il che lo rende estremamente sexy questo collante mi ha veramente entusiasmata mi ha entusiasmata per la sua particolarità per la particolarità con cui è stato è stato realizzato ma soprattutto per la particolarità di come il capo risulta confortevole una volta indossato molto spesso i collante danno fastidio stringono in vita evidenziano magari il ruotolino di più cosa che con questo collante non succede con questo collante ho notato con sommo piacere che la figura delle gambe viene enormemente sbracciata mi piace moltissimo il fatto che la parte ricamata arrivi proprio ad altezza come potete vedere ad altezza ginocchio in modo e maniera che vada quasi un po anche a coprire eventuali rotondità di troppo dal punto di vista del del ginocchio che è una zona sempre molto critica per noi per noi donne per quanto riguarda appunto la taglia non vi segnalo non ho nulla da segnalarvi in particolare se non di affidarmi esclusivamente alla taglia che voi portate perché il capo è un capo che indossa alla perfezione indossa alla perfezione non tira non non fa nessun difetto pur essendo un collante 20 denari è un collante molto resistente adesso però vi voglio mostrare un altro outfit con queste magnifiche collante ecco qua un altra fantastica idea per questo paio di collante se la stagione forse particolarmente fredda un bel abitino io in questo caso ho scelto un vestitino in pura lana col collo alto che voi poi potete andare a impreziosire magari andando a indossare una una bellissima collana una collana un po d'effetto che crea il movimento e soprattutto ho cambiato tipo di scarpa ho deciso infatti di indossare questo particolarissimo biker boots di twin set per rendere il look particolarmente grittoso guardate voi quanto stanno bene le calze anche in questa maniera qua con il biker e appunto il il l'abitino l'abitino nero devo dire davvero davvero super super mi piacciono mi piacciono un sacco e le userò sicuramente tantissimo eccoci qua ragazze quindi alla conclusione della recensione su questo paio di collant che ripeto mi sono state inviate da amazon e voi stesse potete acquistare su amazon nel link sotto nella nell'infobox dunque le collant ripeto sono davvero confortevolissime durante la camminata non danno assolutissimamente fastidio non hanno molto spesso può accadere che indossando delle collant durante diciamo il corso della giornata e camminando queste vi scendano e vi diano fastidio soprattutto a livello di cavallo questa cosa con queste collant non succede affatto aderiscono perfettamente la figura altra cosa che mi piace tantissimo di questo collant pur essendo un collant in fantasia succede molto spesso che si vede il collant la fantasia nella confezione e una volta indossato la fantasia si deforma un pochino in realtà la fantasia rimane fedele ben fatta ben proporzionata alla taglia che si va a scegliere scegliete mi raccomando la vostra la vostra taglia non scegliete tagli in più assolutissimamente perché vestono assolutissimamente alla perfezione punto di forza di queste collant per le amanti delle scarpe insomma col tacco come me è il fatto di avere comunque sia la punta cucita con una cucitura leggermente più spessa che fa da protezione ma non dà assolutissimamente fastidio nella camminata devo dire che io le ho indossate sia con il tacco alto sia con dei biker non ho trovato nessunissimo problema perché molto spesso anche le cuciture danno fastidio proprio sul piede invece qua in questo caso il piede vi rimane proprio non le sentite neanche addosso la cosa che mi piace tantissimo di queste collant è il fatto che pur essendo dei collant 20 denari sono dei collant che tengono la gamba calda tengono la gamba calda perché la parte ricamata ha una trama molto spessa molto fitta ben fatta il che protegge anche la gamba dal freddo ovviamente dovessimo andarle ad indossare in pieno inverno con un bel con un bel con un bel cappotto magari lasciato anche leggermente aperto sarebbero veramente l'ideale si prestano quindi ad essere indossate anche nella stagione più fredda e magari perché no anche con un bel pari di stivali alti che lasciano giusto intravedere questo pezzo qua di ricamo ovviamente questo dipende un po' da quello che è il vostro gusto io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere le prossime recensioni di attivare la campanella in modo e maniera che potrete essere sempre avvisati qualora uscisse un nuovo video il link del collant lo trovate sotto nel box info cliccando al link potrete accedere direttamente ad amazon ed acquistarle detto questo vi saluto alla prossima